Una delegazione della Commissione di inchiesta parlamentare sull'uranio impoverito guidata dalla vicepresidente onorevole Donatella Duranti in missione all'arsenale di Taranto. Obiettivo fare chiarezza sulle condizioni di lavoro di una realtà che impiega molti civili e militari in un settore strategico per la difesa nazionale ma che deve svolgersi in assoluta sicurezza. Dall'arsenale di Taranto sono più volte arrivate denunce di scarsa attenzione al rischio amianto e alle conseguenze dell'inquinamento ambientale. La Commissione ha suddiviso il lavoro in due blocchi di audizioni e ha chiesto di poter avere la documentazione che riguarda la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e quella relativa alle bonifiche. La Marina Militare ha accumulato ritardi e omissioni rispetto all'applicazione delle leggi dello Stato. Oggi siamo di fronte ad una situazione drammatica per i lavoratori che sono già ammalati e quelli che potrebbero ammalarsi nei prossimi anni e quindi dobbiamo comprendere fino in fondo le responsabilità pregresse, capire se oggi i rischi in riferimento alla sorveglianza sanitaria, le bonifiche sono in qualche maniera non più importanti oppure se permangono rischi e poi appunto capire come anche intervenire dal punto di vista legislativo per sanare alcune norme che non restituiscono in qualche maniera giustizia ai lavoratori esposti all'amianto. Il rischio amianto vuol dire arsenali della Marina Militare, vuol dire unità navali, vuol dire appunto arsenali di Taranto. Non solo per la presenza massiccia significativa dell'amianto nelle navi della Marina Militare, ma anche nei luoghi di lavoro, quindi nelle officine e nei magazzini dove sono stati depositati quantitativi enormi di amianto. Noi abbiamo come commissione d'inchiesta voluto cominciare proprio da qui, da Taranto, perché qui a Taranto purtroppo ci sono già casi acclarati di patologie asbesto correlate che riguardano, oggi ci siamo soffermati sul personale civile e dati su numerosi lavoratori ex esposti all'amianto. L'esposizione all'amianto io mi sento di dire che ha riguardato complessivamente tutti i lavoratori che a diverso titolo sono stati impiegati nell'arsenale della Marina Militare di Taranto.